Un racconto in cui storie di vita quotidiane e d'amore si intrecciano a pagine drammatiche della storia palermitana, quelle segnate dalle faide mafiose e dagli attentati tra gli anni 70 e 90. E questo è il fil rouge del film La mafia uccide solo d'estate, diretto e interpretato da Piff, alle prese con il suo primo lungometraggio da regista e sullo schermo nei panni di Arturo, un aspirante giornalista innamorato della bella Flora, l'attrice Cristiana Capotondi. Perché la mafia uccide solo d'estate? La mafia perché? Perché non è vero, perché è una delle scuse che racconta il padre al proprio figlio per tranquillizzarlo, è una di quelle scuse insensate che la generazione dei miei genitori ci raccontava per calmarci e per calmare loro stessi. Tutto è nato veramente perché quando mi sono trasferito a Milano mi facevano delle domande sulla mafia che io pensavo abbastanza ingenue. In realtà c'è questo grande equivoco che soprattutto per quello del nord, la mafia ancora ha queste sembianze del contadino tra cagnotto. Io nel film La mafia uccide solo d'estate sono Flora, sono una palermitana che negli anni delle più sanguinose stragi di mafia a Palermo in realtà come molti palermitani non riesce a prendere atto di quello che sta realmente succedendo. Uno perché è una bambina e due perché fa parte di quella classe sociale che non è collusa con la mafia ma ha una famiglia che in qualche modo entra nei giri di potere, quindi in qualche modo sfiora il mondo mafioso. Una commedia sentimentale che allo stesso tempo guarda Cosa Nostra e la Palermo di quegli anni con gli occhi di un bambino prima e con quelli di un adulto poi, lasciando spazio alla riflessione ma anche alla leggerezza del sorriso. L'intentativo era quello di riuscire a descrivere la vita quotidiana della generazione di Pif che poi è la generazione 35-40 anni tra 70 e 80. Rispettando quella che era la percezione quotidiana c'è qualcosa che accadeva a Palermo ma non ti toccava perché sembrava che fosse quasi una realtà parallela.